Si è svolto all'Istituto Marconi di Siderno l'incontro organizzato dal Comitato Costa dei Gelsomini con l'Onorevole Beatrice Brignone. L'evento è stato molto utile per illustrare l'iniziativa della parlamentare che riguarda l'adozione di una legge che contrasti efficacemente il fenomeno sociale della violenza sulle donne. In Italia, ha ribadito Beatrice Brignone, non esiste un ministro per le pari opportunità e questo rende difficile il lavoro di molti centri che si occupano di contrastare questo fenomeno, poiché alla base non vi è nessuno a coordinarli soprattutto economicamente. L'iniziativa ha evidenziato inoltre la questione maschile, volendo contribuire così ad una maggiore conoscenza e consapevolezza di questo tremendo fenomeno, di cui secondo l'Onorevole bisogna parlare e fare soprattutto prevenzione, a partire proprio dalle scuole e dai ragazzi, come è successo l'ottoprile a Siderno. Sì, sono qui oggi in questa scuola, mi fa molto piacere perché ho presentato qualche settimana fa una proposta per l'istituzione di una commissione per il contrasto alla violenza di genere ed è una commissione che cerca di soperire ad alcune mancanze dovute al fatto che in Italia non abbiamo un ministro per le pari opportunità, quindi non c'è la possibilità per tante associazioni, centri antiviolenza, operatori che si occupano di contrastare questo fenomeno purtroppo dilagante in Italia, di riuscire a essere coordinati, avere una programmazione economica, delle linee guida che siano comuni per tutti, un osservatorio di quello che è il fenomeno della violenza e trovare delle misure adeguate per contrastarle. Quindi questa commissione, questo progetto che io insieme a Pippo Civatti stiamo cercando di portare avanti, portare a calendarizzazione, abbiamo previsto anche l'importanza di quello che può essere la prevenzione nelle scuole a partire proprio dai ragazzi, a partire dai più giovani e quindi mi fa molto piacere poterla presentare oggi qua in una scuola con ragazzi delle quarte e delle quinte superiori.